Iniziamo le informazioni da Hotel Bravo, Charlie, Quebec Papa Hotel Bravo, Charlie, Quebec Papa, mia informazioni, buongiorno, stopo radio 949, QMH 1 0 2 1, codice 4 6 0 1, avanti Iniziamo il 4 6 0 2, con un piano di ruolo da Lugano a Poghera, abbiamo piena la caccia, e rassimiamo Saron a G5, 4 6 0 2, 4 6 0 1 Del Bravo Charlie, Quebec Papa, codice 4 6 0 1, mi conferma la quota, riportando Saron, evitando il cittiero di Inabel Il Bravo Charlie, Quebec Papa, ricevuto, mi riporterà a Saron, attendosi alle macchine VFR del TMA di Milano, in quella zona a 2.000 piedi a MSL o 1.000 piedi ground Aeroporto? Sì, no, è ancora, è ancora, è ancora Aeroporto, è la sua? Sì Aeroporto-Posti-Api Aeroporto-Posti-Api Aeroporto-Rampa Tornato, affermativo Ciuto che pespava, dal radar mi può fare una identa sul 4601? Ciuto che pespava, dal radar l'osservano, quindi Emilia Nord di Saronno, ne conferma? Ciuto che pespava, ciuto che pespava, ciuto che pespava. Ciuto che pespava, ciuto che pespava, ciuto che pespava. Grazie a tutti. 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 Widettamente. 313. buongiorno la 1021. Con voi. 500. Miro posto. abbiamo navigato in cerimento. che ci crimine li porteremo. 313 ricevuti. richiamo e giustamente colgoletto per quella marchieri. potremmo 500. un po' di temperatura. un po' di temperatura. 221. la volante 2.0-1, la volante 2.0-1. Cominato 3.0. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Un'altra cosa è un'altra cosa che non è riuscita. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 3, 4, 5, 6, 7. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È bello, credo di venire in schiena. Ah, è con l'elicottero della forestale. Grazie a tutti.